Dopo il sondaggio telefonico dei giorni scorsi per la scelta della location del mercato settimanale di Oneglia con le successive critiche da parte di ambulanti e molti esercenti, ora il Comune d'Imperia torna a proporre un nuovo sondaggio telefonico fra i cittadini per scegliere come e dove ricollocare il mercato settimanale di Porto Maurizio. Il sondaggio avverrà ancora una volta tramite il servizio gratuito Sindaci in Contatto 2.0 e si svolgerà nella giornata di mercoledì 27 maggio. Le nuove disposizioni del mercato saranno comunque temporanee e serviranno per la riapertura in sicurezza a seguito dell'emergenza coronavirus. Per chi non fosse ancora iscritto al servizio Sindaci in Contatto 2.0 e volesse partecipare alla consultazione è sufficiente telefonare al numero verde 800-96-0401 e seguire le istruzioni ripetiamo il numero verde 800-96-0401. Il servizio è gratuito e sono garantite la massima tutela e riservatezza dei dati forniti.